Gli albergatori dicono no all'imposta di soggiorno, quella che loro hanno già definito la tassa antiturismo, un settore questo messo già in ginocchio dalla crisi dell'introduzione dell'IMU, dall'aumento dei costi dell'energia e dei prodotti di consumo a seguito degli aumenti dei costi di trasporto, con in prospettiva per la stagione prossima dell'aumento dell'IVA. Sì, siamo totalmente contrari a questa tassa, anche perché va a ricadere sulle nostre strutture in un momento veramente strategico, nel modo più negativo. Noi siamo gli esattori, quindi al cliente saremo noi in prima persona ad andare a chiedere questa tassa che è veramente antipatica e iniqua in questo momento, dove per 50 centesimi ci giochiamo un cliente e quindi non possiamo permettercela nel modo più assoluto. È da tempo, per esempio, che chiediamo di armonizzare l'IVA con i nostri competitor, come voi sapete. La Spagna e la Francia hanno un'IVA molto più bassa, quindi essendo un'IVA compresa nel prezzo che noi dobbiamo poi scorporare, passando dal 10 al 12%, abbiamo due punti percentuali che perderemo sui nostri bilanci che in questo momento sono già in crisi. Pessime, le previsioni sono pessime. Già per Natale avremo molti posti liberi ancora negli hotel. Oggi noi siamo molto preoccupati della stagione invernale. Siamo preoccupati ed è per questo che stiamo cercando in qualche modo di attivare dei progetti che possano portare turisti sul nostro territorio. Poi questa tassa di soggiorno è una tassa che va a finire nel calderone del bilancio comunale, quindi noi non sappiamo se verrà investita nel turismo, come dovrebbe essere investita nel turismo. Noi pertanto chiederemo al più presto un tavolo con i sindaci perché temiamo che ci sia l'approvazione di questa tassa un po' a macchia di leopardo, quindi che metterebbe certe località in difficoltà a confronto ad altre.